Ciao, mi chiamo Matteo Grotti e ho fatto il corso sul corpo e la voce condotto da Gianni Bruschi e Francesco Botti e devo dire che mi sono trovato benissimo sia proprio a fare il corso che con chi lo conduceva. Mi è piaciuto definirlo una sorta di tre giorni in una beauty farm, perché davvero stare immerso completamente 8-9 ore al giorno nel teatro, tutto ciò che può concernere un lavoro teatrale appunto sul corpo e la voce, per me è stato come stare tre giorni a rilassarsi. Lavori intensi, importanti, che però non mi hanno portato ad essere stanco, anzi, mi rinnovavano una certa energia positiva. E credo che sia veramente, veramente interessante da fare per qualsiasi tipo di persona, sia per chi ha interessi magari nel proseguire studi teatrali, sia per chi si vuole avvicinare, sia per chi semplicemente gli va di farlo, perché comunque veramente c'è un lavoro importante sul corpo e sulla voce, che è importantissimo sempre, in vita, nel lavoro, nelle amicizie, conoscere il proprio corpo e la propria voce. E poi si sta davvero davvero bene, è veramente piacevole, davvero piacevole. Quindi se lo fate in bocca al lupo e divertitevi. Io mi sono divertito tantissimo, veramente tanto, e lo rifarei, se mi ci rivolgono lo rifarei volentieri. Quindi un saluto a tutti e buon laboratorio per chi lo farà. Ciao!